Ciao a tutti ragazzuoli e bentornati qui su Bricknouse, io sono Simone e ogni settimana vi racconto tutte le novità e i rumors del mondo LEGO. Oggi vi racconto il nuovo set del planisfero LEGO, LEGO Art, e ora sigla! LEGO ha finalmente tolto i veli al mappamondo, al planisfero, non il mappamondo, al planisfero di cui si era sentito parlare all'inizio anno nei primi rumors, legato appunto alla linea LEGO Art, quella dei mosaici, e ora finalmente lo possiamo vedere in tutta la sua magnificenza. Il set ha il codice 31203 e si chiama appunto World Map e ci permetterà di creare ben tre diverse configurazioni del planisfero mondiale. Infatti in una avremo la classica rappresentazione che abbiamo anche noi qui in Italia, con l'Europa al centro del planisfero, una ci permetterà di avere le Americhe al centro del planisfero e la terza ovviamente permetterà di avere tutta la parte asiatica, quindi Asia, Cina e Australia al centro del planisfero. Per quanto riguarda invece la parte degli oceani, potete assolutamente decidere voi come meglio realizzarli. La base indicata nelle istruzioni vi permetterà di realizzare i classici oceani con le linee batimetriche, quindi con tutti i vari colori in base alla profondità, però nessuno vi vieta, come poi vi suggerisce anche LEGO, di cambiare la disposizione e crearvi un vostro pattern personalizzato per renderlo un po' più bello o un po' più simile a quello che volete voi. Inoltre la parte delle terre emerse è realizzata con dei plate uno per uno, per cui sopra sono presenti tutti gli stud e non sono lisci. Questo vi permetterà di agganciare e attaccare dei piccoli segni a posto, forniti sempre all'interno della confezione, ma nessuno vi vieta poi di utilizzare quelli che voi preferite, per indicare i posti dove magari siete già stati o dove vorreste andare in futuro. Il set sarà in vendita dal primo di giugno nei LEGO Store e sul LEGO Shop Online a 249 euro, mentre dal primo di agosto presso tutti i rivenditori terze parti. Il risultato finale di questo mappamondo, di questo planisfero, sarà un quadro gigante da appendere con due nuovi due nuovi pezzi tecniche per appendere appunto i set al muro, largo ben un metro e alto 65 centimetri con una cornice bianca, a differenza invece degli altri LEGO Art che avevano la cornice nera. Anche se le terre emerse sono completamente bianche, ci aspettiamo che nel giro di poco escano delle mod o delle modifiche delle MOC appunto, in cui potremo poi andare a modificare la parte dei colori delle terre emerse in un modo un po' più realistico. Nessuno ovviamente vi vieta poi di realizzarle voi stessi queste modifiche. Per cui, ricapitolando, set 3123 World Map, 11.695 pezzi, in vendita dal primo di giugno a 249 euro e dal primo di agosto presso tutti gli altri rivenditori. Se ti è piaciuto questo video mi raccomando un bel mi piace in fondo, attiva la campanella se non l'hai ancora fatto per non perdere i futuri aggiornamenti sul mondo LEGO e noi ci vediamo alla prossima news. Ciao!